Una moda sostenibile è possibile da Prato, la città del tessile toscano per eccellenza arriva un'esperienza concreta, ovvero tramite una start-up dei vecchi indumenti possono davvero tornare a nuova vita. Questo in realtà è jeans, quindi questi vengono dai vecchi jeans che vengono divisi e vengono trinciati, vengono lavorati, viene rifatta la fibra e dalla fibra di cotone facciamo il maglioncino. Quindi questo è un prodotto che noi utilizziamo parallelamente al cashmere, è una produzione che viene fatta a Prato da un nostro fornitore e che quindi anche questa è una produzione che noi cerchiamo di valorizzare perché il jeans è uno dei prodotti più inquinanti che esistono. E quindi questa è una linea di maglioncini che c'è sia la parte estiva ma anche la parte invernale. Due anni fa non era così, quindi vi sentite un po' dei pionieri dell'economia circolare, del riciclo, della sostenibilità. Ma no, in realtà erano tematiche che venivano trattate, forse non troppo in Italia però già in Germania, in Francia se ne parlava molto e quindi no, sicuramente no. Diciamo che siamo stati tra i primi a vedere un valore in questa tradizione, in questa lavorazione che Prato nascondeva e che Prato ha. Grazie. 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 Grazie.